Si chiama Lucky and D. Perry, ha 18 anni di età di sul fuori in Louisiana negli Stati Uniti America e sarebbe stata arrestata con la grave accusa di pedofilia dopo che avrebbe abusato a livello sessuale intimo di un bimbo di soli 5 anni e di una bambina di soli 3. Avrebbe abusato di questi due bambini e avrebbe addirittura condiviso i video svolti con i bambini in questione nel social network. La ragazza sarebbe stata arrestata da parte delle forze dell'ordine, l'indagine è partita proprio di recente e la polizia che si occupa di reati pedofornografici, il dipartimento si è adoperato fin da subito per andare a mettere in condizione la donna di assicurarla alla giustizia come effettivamente si è verificato. Vi ringrazio in primis per la visione, vi ringrazio in secondis per l'ascolto. Di questo video di oggi esimi utenti di YouTube, un saluto caro da interiandrone nell'atur e interiare. Grazie per la visione.